buongiorno ad obiettivo news oggi 24 febbraio è sante telberto e ogni anno si festeggia la giornata mondiale dei bartender dedicata ai professionisti della mixology 70 anni fa nasce l'international bartender's association e succede il 24 febbraio 1951 nel salone di un resort in riva al mare nel sud regno unito di quel battesimo ne fecero parte sette associazioni nazionali di bartender con l'obiettivo comune di dare vita alla prima organizzazione mondiale danimarca francia paesi bassi svezia svizzera regno unito e italia oggi ne fanno parte 56 paesi e migliaia di bartender di tutto il mondo allora dedicato al world scusate allora dedicato al world bartender day una festa per tutti coloro che fanno questa professione a differenza del barman bartender lavora con un approccio più moderno è una figura professionale che utilizza tecniche che velocizzano molto la preparazione dei cocktail risulta quindi adatta a gestire le situazioni e gli ambienti con maggiore l'influenza come discoteche e pub